dopo i dilattati passiamo a un'altra tipologia di viso che sono i visi con ritrazione detti ritrattati è come se avessero diciamo una parte del viso leggermente mancante ce ne sono di diversi tipi di ritrazione in questo video parliamo dei visi con ritrazione laterale che sono dei visi allungati come se avessero le guance un po scavate mancanti e il viso molto allungato come nell'immagine di copertina questi visi che sembrano un po allungati alle volte possono essere scambiati un po per un viso equino diciamo così ricordano appunto un cavallo da un certo punto di vista come profilo e questi visi rimandano a personalità dove è forte l'aggressività l'aggressività che può anche essere compressa e non espressa quindi non è detto che questa aggressività venga manifestata ma può anche essere compressa dentro e questa proprio questa compressione o questa forte aggressività che può essere compressa o espressa ma c'è una parte compressa molto forte che ha determinato diciamo quasi come se fosse un allungamento del viso uno stiramento del viso e a questo tratto diciamo del carattere quindi sono persone che hanno una bassa soglia di tolleranza agli stimoli perché come dire come se fossero sempre saturi quando arriva lo stimolo possono tendere a scattare ad avere delle reazioni brusche e infatti mancano spesso di autocontrollo non riescono a controllarsi perché come se fossero sempre delle molle caricate per cui basta poco per farle farle scattare e diciamo a differenza dei dei dilatati tendono a essere magri e quindi non hanno questo grosso impulso diciamo istintivo verso la nutrizione verso il cibo e hanno comunque una forza di volontà ferrea per cui tendono a perseguire gli obiettivi anche se diciamo spesso non riescono a raggiungerli a causa di questa aggressività che non riescono a gestire non riescono a controllare per cui spesso falliscono proprio a causa dell'impulsività e quindi l'aggressività è la parte che devono imparare a controllare a gestire meglio bene vi do appuntamento al prossimo video vi invito a seguirmi sul blog http www soluzione vip.com ciao